Andiamo a dire, Sì. Come dico, qui, ossia, offri? Cos'è? No. Mi voglio dire, questo? No! Stiamo arrivando. Mi voglio dire, c'è, che dio, c'è, che dio, c'è, no! Lo chiamo via le sede, c'è, che dio, c'è, che dio, c'è, che dio, c'è, no! Siamo in giudo pericoloso o cosa? No, no, ci abbassiamo il maschio, dai. Stiamo in fulaccio. 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 Stiamo in ful merits. Robi. Stiamo in fulisare. Sì, 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 sì Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.